Se il cane è davvero il miglior amico dell'uomo, proprio per questo non va abbandonato neppure nei momenti più critici dell'anno e l'estate. Purtroppo è uno di questi. Si batte per questo ed altri valori l'associazione culturale Sheron. A Cassano delle Murge siamo andati a vedere quella che è la situazione, un'oasi verde dove la tutela dell'animale è tutto. Le statistiche parlano molto chiaro. Gli abbandoni sono aumentati anche quest'anno, si verificano in due periodi ben distinti dell'anno, anche se durante il corso ci sono. Purtroppo per via delle vacanze si sacrifica il miglior amico dell'uomo, il compagno di vita. Io quello che voglio dire a chi mi ascolta in questo momento è di guardare negli occhi il proprio amico a quattro zampe e pensarci bene perché non è giusto. Loro ci danno tanto amore e ricambiarli così è veramente spietato. Cani ma non solo. A cuore dell'associazione anche la vita e la salvezza di animali come galline, anatre e non solo. Il tutto con l'appoggio di VIP eccellenti. Nel corso degli anni siamo stati sostenuti da tanti personaggi pubblici tra cui l'attore Mingo De Pasquale e la giornalista Daniela Mazzacane, prematuramente scomparsa, a cui va ancora oggi il nostro immenso grazie per quello che ha fatto per l'associazione.